Ciao a tutti ragazzi, bella, benvenuti in questo nuovo video Io sono Omega Ragazzi e oggi sono in compagnia di una vecchia conoscenza Ciao Pazzi Scatenati Sì oggi faremo un video speciale Speciale perchè io vorrei lasciare le spiegazioni ad Antonio Facciamo spiegare a lui Allora ragazzi, non so se da voi dove abitate in Palestina Esiste la tradizione del carnevale Qui stasera è una serata importante Dato che c'è il corso mascherato e tutti vanno vestiti come dei pazzi scaricati Esatto ragazzi, quindi praticamente nel nostro paese sono 625 anni di carnevale Quindi ci sono i carri, vedrete gente vestita con tutte le maschere possibili esistenti al mondo Vestiti da transessuali Esatto Io poi comunque cercherò di riprendere tutto il possibile con la GoPro Quindi cercherò di riprendere un po' di tutto Quindi carri, persone, eccetera Quindi ragazzi pensate è quasi mezzo secolo di tradizione Oltre infatti mezzo secolo che c'è questa tradizione del carnevale Quindi ci sarà il casino, ve lo diciamo subito Però noi cercheremo di fare un video As web Salmo è anonymous e si esce a comandare E' qua questo da dire E' qua questo da dire Era scontatissimo mi vestissi da anonymous Hai rotto il cazzo Io ero scontatissimo Adesso ormai ho la maschera lo sapete benissimo Lui ha la maschera di Salmo Dove l'hai trovata quella maschera che bella? Su Amazon La pagata tipo 11 ore e qualcosa 11 ore e 90 spedizioni Comunque ragazzi Se volete diventare anche voi come me Basta che assumete un barattolo di droga al giorno Come questo qui E andrete lontano Ragazzi adesso stiamo andando Quindi sicuramente l'audio non si sentirà benissimo Questo è sicuro Tipo sapete no Che vabbè Io già con la maschera Oh ma tu sei Omega Si sono io Omega E allora Quindi ragazzi Sapete già che con la maschera La voce si sente abbastanza spuscata Però fate che Adesso ci sarà musica e tutto Quindi sicuramente l'audio non si sentirà bene Male che vada Molchiamo una canzone da upstep da sopra E si svegga male S A L M O Riconosci il nome Ma cosa che non ho detto A questo video dobbiamo arrivare minimo Quanti like per questo video? 20 20 like Guardate la mia maschera già sto sudando sudore avanzato Quindi ragazzi Che cazzo dici 20 like? Pezze di merda Minimo Allora facciamo 100 120 Allora facciamo 120 Perché l'ha detto Antonio Quindi fatelo per alto 120 like per questo video ragazzi Anche se poco si capirà Perché c'è troppo casino Però ragazzi 120 like per questo video Quindi mettetece la tutta Carnevale Che sta a mani Sputu Specialist A CapriBot E c'è anche lo zoo di 105 ragazzi Quindi se volete farvi tre risate Sa il concerto di Fedez Domani Fedez Chi altro c'è? E mi scherda Giussata Mandarino Ci sono tutti ragazzi Non so se mi sentite Però adesso vi faremo vedere Una cosa brutta Vabbè se non sei salta Metto i commenti Tanto I sottotitoli Comunque Adesso vi faremo vedere Una cosa Praticamente Una persona Che stai facendo? Ok 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 Saluto Gli amici di Un'ultimo 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 O facevano mille chilometri Sulla Pirulano Oppure lo prendevano Le tagliavano le palle Una a una Quindi ragazzi Come potete vedere C'è un tizio Io ho due persone Che corrono Sulla Pirulano Fino alla morte Adesso lo facciamo vedere Quello di destra Se non facevano mille chilometri Lo facevano diventare Ognuno Gli toglievano Lo stipendio Esatto Voi fareste mille chilometri Per avere E' un'ultimo Tutti a fare E' un'ultimo E' un'ultimo 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 Ci sono i miei, ci sono i miei Grazie per la visione Ci sono i miei 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 non finisci quello che stai dicendo ma non c'è lo zoom no perchè ti metti in posa perchè ti metti in posa non è una foto antonio bella tutta ragazzi qui è omega e acqua che ha jack Grazie a tutti 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 Grazie a tutti